Questa è la sala centrale, le presento i miei collaboratori Salve, 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 sì, sì, beh, il vostro è un istituto molto famoso qui a Parigi Beh sì, 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 e io appena ho saputo del vostro sistema morbido non vedevo l'ora di sapere di cosa si frattasse Beh sì, qui prima vigeva il sistema morbido, in poche parole i ragazzi potevano fare ciò che volevano Andarsene dove volevano, ricevere visite, purtroppo però le visite li portavano a uno stato d'agitazione tale Che mi sono vista costretta a prendere provvedimenti ed avere un sistema più rigido, senza visite Capisco, capisco, quindi il sistema morbido non c'è più? Purtroppo no, abbiamo deciso di rinunciarci Visita da 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 Grazie. 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 Grazie.